E voilà, alcuni più luci, alcuni più mansions, ancora in Diker Heights, i bambini, gli adulti, tutti si piacciono queste luci. Come sono le luci là sopra? E' una cascata di luci, sono parecchie, ci sono anche pesettini, cose più o meno kitsch. Questo è kitsch per esempio, perché hanno messo i soldatini. Ecco i soldatini, ballerine, che carino. E' carino? Ha messo la neve alle finestre. Questo prima non l'ho voluto fotografare, non l'ho voluto fotografare. Niente alle finestre. No Marco, aspetta, aspetta, andiamo a salire pure noi, no? A lot of Italians around. E c'è anche un quartiere italiano, a Bocchi. Molto di polizzi. Qui controlla tutto, come sempre qui. Guardate questa entrata. Le petit soldat. E voilà. Santa Claus. What I see there, so many lights. People are struck by the lights. Here, wow. Here there's everything, from little soldiers to Santa Claus, the stars. I'm going to try to pass by. I'm going to try to pass by. He has 4 lights. Qui si fa di tutto un business. Si fanno pagare per fare le foto insieme ai pupazzi, ovviamente. però regalano le caramelline, ecco. Aspetta che ora vorrai soldi anche da me. E lui? A me piace lui. Oh wow. Over there, that's the carousel. Oh, 2 of them. I don't know what happened. I got a phone call, so... Are you still there? Are you still here? Oh, this one is amazing. This house. Everybody taking pictures here. It's like a competition between the neighbors. Like we used to do in Naples for fireworks. And we were used to destroying windows of our neighbors. So now we stopped to save my dad's hands also. They are precious. And here I think it's a light competition. So, light display competition. So it's a little safer. I guess much more expensive, but still. Eh, sembra una gara tra vicini. A chi fa cose più folli. Prova a salire. Casino. This is on new settings. Go. No, no, no! To not see where I am! Grazie a tutti.